Riprendiamo il nostro lavoro sul sogno e faremo, come vi accennavo, un lavoro sostanzialmente attorno a un sogno, che è un sogno di Freud, riportato da Freud, che è il sogno di Irma. Ed è un sogno inaugurale della psicoanalisi, al punto tale che una famosa lettera di Freud a Fliss, vi ricordate, immagino, questo Fliss di cui avevamo già parlato quando abbiamo parlato della cosiddetta autoanalisi di Sigmund Freud, che in realtà non è stata propriamente un'autoanalisi perché si è realizzata attraverso l'epistolario ricchissimo con l'amico, col dottor Fliss e dunque in questa lettera a Fliss Freud addirittura vagheggia di un giorno in cui in questa località di campagna dove è avvenuto il sogno di Irma, cioè dove Freud ha sognato la sua paziente Irma, ecco in questo luogo verrà riposta una lapide con su scritto qui, il professor Freud ha avuto per la prima volta l'intuizione della chiave di interpretazione del sogno, cioè che il sogno è la realizzazione di un desiderio inconscio o rimosso. e vorrei arrivare con voi a questo sogno riprendendo alcuni elementi che avevo evocato al nostro primo incontro e anche alcuni elementi che abbiamo incontrato strada facendo grazie ai due relatori che abbiamo ascoltato cioè Federico Leoni e Fabio Galimberti. E allora iniziamo così, iniziamo dal tratto poetico del sogno. Ieri si diceva giustamente che nel sogno c'è sempre in gioco qualcosa di enigmatico, qualcosa di bizzarro, qualcosa di strano che si manifesta attraverso un linguaggio e che non soltanto però ci viene incontro nella modalità della stranezza, del non senso, dell'enigma, ma al contempo riesce a stringere, ad afferrare qualcosa. Dunque questi due aspetti sono in effetti in comune tra il sogno e la poesia. Sono fatti di linguaggio, di un linguaggio diciamo che si produce alato rispetto al linguaggio della veglia, della vita destra, della vita cosciente, del senso preordinato, ma se fate attenzione sia il sogno sia la poesia attraverso le loro stranezze linguistiche riescono a toccare qualcosa di reale. qualcosa che ci coglie nel vivo, diciamo, della nostra esistenza e il motivo per cui Lacan, ritornando a Freud, parla di un'altra ragione, cioè l'inconscio, il sogno, come la poesia, non sono semplicemente una stranezza, ma sono portatori di un'altra ragione, di una ragione differente rispetto a quella più consuetudinaria. Potremmo dire un'altra forma del logos e dunque anche un altro funzionamento del linguaggio. Io sono un poema, diceva Lacan, un poema che ha l'aria di sembrare un soggetto. Il sogno, come la poesia, condivide questa modalità dell'essere scritto. L'inconscio è un poema, è un poema che è stato scritto prima che noi incominciassimo a parlare ed è un poema che si continua a scrivere e dunque è qualcosa che si tratta di imparare a leggere. E lo stesso, in fondo, Freud dice dei nostri sogni. C'è qualcosa nei sogni che si scrive e che si rivela perché è stato scritto. E dunque, come diceva giustamente ieri, forse l'altro ieri, non ricordo, l'altro ieri, Fabio Galimberti, non c'è sogno senza sognatore. E cioè l'interpretazione del sogno non può avvenire se non passando attraverso il soggetto che l'ha sognato, perché, diciamo così, è lui il lettore privilegiato del poema che lo abita in ciò che ha di più intimo. E allora partiamo da una considerazione poetica e da un sogno che non è ancora quello di Freud di cui parleremo oggi. Ed è il sogno di un filosofo, è di un filosofo che penso conoscerete, che si chiamava Walter Benjamin, è ebreo, di lingua tedesca, e che in questo testo di Jacques Derrida, che è intitolato Fishou, viene evocato per un sogno, un sogno che pare che Benjamin abbia fatto il 12 ottobre del 39 e dunque un anno prima, grosso modo, la sua morte, avvenuta invece il 26 settembre del 1940. Morte suicida, Benjamin era in fuga dalla persecuzione nazista, aveva passato già diverso tempo a Parigi, dalla Francia cerca di andare verso la Spagna e dalla Spagna trovare riparo negli Stati Uniti in America, come avevano fatto già tanti suoi amici, tra cui anche appunto Teodor Adorno, ma non riuscirà mai a raggiungere il nuovo continente, perché nella notte appunto tra il 25 e il 26 settembre nel 1940 viene raggiunto dalla notizia che gli è stato revocato il passaporto per poter dunque lasciare il vecchio continente e per lui questo significa che non abbandonerà l'Europa e che molto probabilmente sarà deportato in un campo dai nazisti che li erano alle calcagne e dunque di fronte a questo orizzonte decide di togliersi la vita. La tragedia della vita di Benjamin in fondo ci ricorda che paradossalmente i suoi compagni di fuga il giorno dopo riceveranno e lascia passare per poter raggiungere gli Stati Uniti d'America e quindi Benjamin diciamo non era più con loro. Allora un anno prima Benjamin fa questo sogno che Jacques Derrida ricorda nel momento in cui gli venne conferito il premio adorno e siamo dunque mi pare sia il 22 settembre 2001. Anche qui è una data che dovrebbe rievocarvi altri fatti abbastanza tragici e nel ricevere questo premio Derrida si esprime in questa maniera adesso ve lo traduco un po' così all'impronta dice vi chiedo perdono mi appresto a salutarvi e a ringraziarvi nella mia lingua la lingua sarà dunque il mio soggetto la lingua dell'altro la lingua dell'ospite la lingua dello straniero cioè dell'immigrante dell'immigrato dell'esiliato. In esergo a questo modesto atto di testimonianza di riconoscimento permettetevi di leggere una frase che Walter Benjamin un giorno una notte avrebbe sognato lui stesso in francese. La questione qui che già si pone è la lingua dei nostri sogni, la lingua in fondo di un ebreo di lingua tedesca in fuga dal proprio paese temporaneamente ospitato in un paese di lingua straniera, di lingua francese, che sogna nella lingua del paese in cui si trova. Questo sogno viene confidato in francese a Gretel Adorno in una lettera che Benjamin demanda il 12 ottobre del 39 e darà il campo di, come si chiamavano allora, il campo di lavoro volontario a Nievre. In questo sogno che fu da quello che dice Benjamin euforico, quindi un sogno euforico, non un sogno d'angoscia, un incubo, abbiamo parlato un po' dei, oggi penso che parleremo ancora, dell'incubo come quella modalità caratteristica del sogno di risvegliarci precisamente nel nel punto più autentico, nel punto più autentico e insopportabile. No, questo è un sogno euforico. Benjamin dice, e si dice in francese, si tratterebbe di scambiare un foulard, un foulard femminile, il termine francese che usa è Fichu, un foulard femminile, una sciarpa di donna, in una poesia e lo traduce anche in tedesco. Allora, commento di Derrida, in questo mio lavoro cercheremo di accarezzare questo foulard di donna, questa sciarpa, cercando lì le lettere dell'alfabeto che Benjamin ha creduto ritrovarvi nel sogno. Fichu, in francese dice Derrida, significa foulard, sciarpa, sciarpa femminile, ma ha un altro significato. L'aggettivo Fichu, ad esempio nell'espressione Je suis Fichu, significa propriamente io sono fottuto, io sono dannato, non ho più alcuna speranza. Ecco, qui Derrida ci dà prova dell'uso poetico che il sogno fa dei significati. Un significante, una lettera, viene sognata in una lingua straniera ed è grazie alla lingua dell'altro, alla lingua dell'inconscio, che è l'altro che mi abita in ciò che ho di più intimo, che quella lettera dice due cose che a livello della coscienza, della vita vigile, per noi apparentemente sarebbero agli antipodi. Questo foulard di donna, questa sciarpa femminile, che ci protegge, che in fondo anche ci permette un po' di mascherarci, di coprirci come un velo e al contempo la nostra condanna, il nostro essere senza più alcuna speranza, senza alcun orizzonte di senso futuro. Qual è la domanda che si pone Derrida rispetto a questo sogno? Qual è la differenza tra sognare e credere di sognare? E chi può porsi questa domanda a pieno diritto? E cioè chi può dire che in questo momento io stesso qui con voi non stia sognando. Possiamo parlare di un sogno senza risvegliarci? Immagino due risposte. Quella del filosofo sarà certamente no. Non possiamo tenere un discorso serio responsabile sul sogno. Nessuno sa raccontare un sogno senza risvegliarsi. Dunque una risposta negativa. Non è possibile raccontare un sogno se non interrompendolo, se non essendo sicuri di non trovarci ancora nella posizione del sognatore. Che cos'è infatti la filosofia? Per il filosofo? L'essere desto o l'essersi risvegliati? Non esiste che responsabilità in nome di questa lucidità. Immaginiamoci invece un'altra risposta, la risposta del poeta, dello scrittore, del saggista, del musicista, del pittore o dello psicoanalista. Ebbene lo psicoanalista direbbe non senz'altro no, non è possibile. Direbbe forse sì, alle volte. Direbbe sì, può darsi. Sarebbe più accondiscendente nei confronti dell'evento e della sua eccezionalità singolare. Noi possiamo credere, direbbe l'analista, che alle volte ci risvegliamo continuando a sognare o, altrimenti detto, che sogniamo anche quando siamo svegli. E cioè che in fondo la scoperta di Freud è che si sogna non soltanto quando si dorme. Ecco che in fondo Derrida ci presenta qui due piste nei confronti dell'esperienza del sogno, che sono le due piste in fondo inscritte in questa lettera, in questa parola, Fichu, che Benjamin ha sognato, in fondo avendo già purtroppo l'anticipazione di quello che sarebbe stato il suo destino. Una pista è quella del senso, della rappresentazione, di quello che noi possiamo da svegli raccontare del sogno che abbiamo fatto. E dunque di quello che il sogno ci dice, di quello che il sogno ci trasmette, di quello che il sogno ci permette di interpretare. Ma poi c'è un'altra pista, è quello che si sogna in noi senza di noi, è quello che si sogna a nostra insaputa. E, dice qui Derrida, il rumore che accompagna l'esperienza onirica, che ci frattura in ciò che abbiamo di più intimo e così tocca il reale del nostro corpo. Ecco, il sogno si scrive su questi due binari. C'è un binario, diciamo così, che fa del sogno un insieme di elementi parlanti che donano senso alla nostra esistenza e che noi possiamo trasmettere, perché in qualche maniera possono essere letti e restituirci appunto una chiave di lettura. Ma non si sogna soltanto per il sogno, per il senso, si sogna anche per questi elementi di frattura, di rottura, che da un certo punto di vista toccano il reale del corpo parlante. Ecco, allora dobbiamo prendere l'insegnamento di Freud su questi due binari. Ieri, l'altro ieri, Fabio Galimberti portava l'espressione di Bion del rumore, se vi ricordate, del rumore che tocca, diciamo, la vita del sognatore sul piano della realtà e incide nella produzione onirica. Diciamo che questo elemento di rumore rimane sempre lì nella costruzione del sogno come elemento enigmatico, mentre nella narrazione, nella ricostruzione che noi facciamo del sogno, in qualche maniera ricamiamo attorno a questo rumore di fondo e costruiamo ciò che ci permette di dare un senso a tutto ciò. Ecco Fichu nelle due eccezioni. Fichu è il fulà, il velo del senso, che ci permette in fondo di coprire, di mascherare, di tenere a distanza il trauma dell'esistenza, ma Fichu è anche la constatazione che siamo fottuti, e cioè che non c'è un senso ultimo che potrà salvarci da quello che caratterizza la nostra vita nella sua ferita originaria. Allora proviamo a trasporre questo binarismo, diciamo, questi due elementi che ricaviamo dalla lettura di Derrida all'interno della nostra ripresa del sogno di Irma, e lo facciamo appunto lavorando sul sogno. Vi avevo chiesto di leggere questo sogno, pensiamo un po' adesso di ripercorrerlo insieme, vediamo se riusciamo a fare questa operazione anche velocemente. ecco allora dunque è un sogno, dicevo, con cui Freud inaugura la sua interpretazione dei sogni, ed è un sogno epocale perché in fondo è il sogno con cui Freud arriva a dimostrare quella che è la sua intuizione di fondo, e cioè che i sogni non sono l'effetto, come dice in chiusura, di questa ricognizione, di una costruzione frammentata dovuta al funzionamento del cervello mentre noi stiamo dormendo, ma è che il sogno realizza, realizza, quello che non possiamo realizzare nella vita destra, e cioè precisamente qualcosa del desiderio inconscio. Allora, che significa qui desiderio inconscio? Ieri, l'altro ieri lo vedevamo un po' anche negli esempi che portava Gallimberti, significa sostanzialmente desiderio rimosso, e cioè non tanto quello che a livello preconscio io posso sapere di sé e che di me stesso e non mi autorizzo ad esempio a realizzare, ma qualcosa che io non so di me, e che non riesco a portare a coscienza, perché propriamente è iscritto nella parte rimossa della mia vita psichica, dunque in qualcosa che si è cancellato e che condiziona la mia esistenza a mia insaputa, e lo vedevamo anche la prima volta propriamente ciò che ha scoperto Freud grazie all'isterica. Allora, in questo caso noi abbiamo un sogno con una premessa, che è molto importante perché è in fondo la premessa che ci permette di situare questo sogno, e cioè Freud non inizia direttamente con la narrazione di quello che ha sognato, ma inizia raccontando il contesto in cui è avvenuto questo sogno. E di nuovo rispetto a quello che stavamo dicendo, cioè il rapporto tra il rumore e il senso, è importante partire dal contesto, perché nel contesto c'è propriamente l'occasione reale che ha reso possibile la drammatizzazione onirica. Allora attacca così, nell'estate del 1895 avevo avuto in cura psicoanalitica una giovane donna legata a me e ai miei da viva amicizia. Allora dice già qualcosa che subito colpisce l'attenzione, e cioè segnala che si tratta di una donna che ha in cura e che però non è soltanto una paziente, ma che è legata a lui da una rete di conoscenze e di amicizie. Ora, qui c'è qualcosa che per Freud, in fondo dovete pensare che nel 1299-1900 Freud sta avviandosi alla scoperta della psicoanalisi e alla sua tematizzazione, così come ce l'ha trasmessa, c'è qualcosa che non si dovrebbe fare. Dunque è in fondo un contesto in cui Freud ci sta dicendo subito che ha commesso un errore e ha iniziato col piede sbagliato questa cura. E quello è il piede sbagliato con cui inizia. Sovrapporre a quel legame sacro e singolare che chiamerà legame di Transert, e cioè il legame tra il paziente e l'analista, un legame profano, un legame diciamo socializzato. E Irma è le due cose allo stesso tempo. È inserita all'interno di una famiglia legata alla famiglia di Freud e al contempo è una sua paziente. Qual è il limite, l'errore di questa doppia posizione? L'interesse personale, dice, del medico è maggiore e minore è la sua autorità. in due parole dice tutto quello che c'è da sapere, né più né meno. E cioè che l'analista deve essere in una posizione non di interesse personale, perché l'unico interesse in gioco è quello dell'unico soggetto che è presente nella relazione, e cioè il paziente. E che l'analista non deve essere lì nella posizione di soggetto quale è nella sua vita quotidiana. Ecco perché è bene che abbia fatto una lunga analisi e che abbia l'impressione, come vi citavo prima, di essere un poema che ha l'aria di essere un soggetto. E cioè qualcosa che in fondo forse avete notato anche lunedì nella parte più di testimonianza che ci ha portato Faglio Galimberti, cioè che il proprio poema è qualcosa da cui si può prendere un po' le distanze. E attraverso l'analisi che in fondo dice Lacan, quello che in fondo è stata la tragedia di una vita, torna un po' come una farsa che si può raccontare con un certo respiro, un certo distacco, perché appunto il soggetto se ne distacca e diventa il poema che ha caratterizzato in fondo la sua vicenda inconscia. Allora queste due sovrapposizioni vanno evitate e poi per la minore autorità, e cioè c'è in gioco qualcosa della posizione, di nuovo della posizione che il paziente attribuisce all'analista e che questa posizione, diciamo così, è legata in fondo all'incanto transferale, qualcosa che avviene all'interno della seduta e che non può essere portato in giro per il mondo come una cosa tra le altre. La cura, dice qui, terminò con un successo parziale. Allora, questo tema della parzialità è decisivo, cioè Irma, la paziente di Freud, è guarita ma in parte, non è guarita completamente, non è tutta guarita, c'è una parzialità, vuol dire che c'è qualcosa che rimane diciamo incurato e che in questo momento Freud vive come un insuccesso. Allora, il secondo punto importante di questo diciamo preambolo è che qui Freud ancora non accetta una regola fondamentale della posizione etica dell'analista e cioè accettare la frustrazione, accettare il fallimento, accettare cioè che, come dice e dirà poi Freud, tanto più il medico adimira la guarigione, tanto meno il soggetto effettivamente la raggiungerà. E dunque si tratta evidentemente di aver dimira qualcos'altro, di aver dimira effettivamente qualcosa che può avere un effetto di guarigione e soprattutto questo elemento che la guarigione porta sempre dentro di sé qualcosa di parziale, cioè una parzialità che è costitutiva. Ora, come vive la parzialità qui Freud? La vive come ciò che fa spazio all'alternativa di un altro medico che forse avrebbe potuto curare meglio di lui i sintomi di Irma, cioè come un insuccesso personale che invece produce invidia, gelosia nei confronti di un altro medico. E chi è questo altro medico? Nel sogno, lo vedremo, è un collega, è un collega di Freud che qui risponde al nome di Otto e che entra nella scena del sogno, come vedremo, creando tutta una serie di elementi e qui troviamo diciamo una logica che è caratteristica del funzionamento onirico e cioè elementi di condensazione e di spostamento. In uno stesso personaggio si possono condensare più figure o lo stesso personaggio si può moltiplicare in una serie di molte figure che rendono possibile lo spostamento di ciò che lui rappresenta. Allora, come si trova a reagire Freud a questa parzialità della cura? Al fatto che ci sia in gioco un altro medico che forse avrebbe potuto curare meglio Irma di quanto abbia fatto lui stesso? Scrivendo. Questa è la grandissima risorsa che ha Freud, scrivere. E nella scrittura in fondo Freud porta avanti la sua autoanalisi ed è scrivendo che voi vedete bene, come si vede bene in questo resoconto del sogno, che Freud si interroga rispetto non solo a quello che ha fatto ma a quello che ha sognato. Sogno del 23 e 24 luglio 1895. E così inizia propriamente la narrazione del sogno. Un grande salone, molti ospiti che stiamo ricevendo. Allora, la prima cosa che Freud ci invita a fare è chiedersi chi è il sognatore? La risposta sarebbe fin troppo semplice, il sognatore è lo stesso Freud. Ma nulla è semplice nella vita unirica e tutto si sposta e si condensa e la domanda invece è la domanda fondamentale. La domanda fondamentale non è solo che cosa è stato sognato, quello è il livello della rappresentazione, del senso, è il fichu come velo, come protezione, come sciarpa femminile che avvolge il nostro collo, ma sotto c'è il sognatore, cioè che posizione occupa il sognatore in questa vicenda. E quella posizione è precisamente la chiave di lettura del sogno. Quindi quando noi leggiamo un sogno è come se leggessimo, diciamo, una fiaba, una narrazione, avendo però di mira non semplicemente ciò che viene narrato, ma la domanda è da dove viene narrato quello che appunto nel sogno si manifesta. E cioè qual è la posizione? Ricordate l'esempio che faceva lunedì Fabio Galimberti di quel padre di famiglia che doveva decidere o meno se finanziare ancora gli studi per il figlio e dove il lavoro analitico alla fine ha portato a dire di sì, prosegue gli studi e così via. Allora lì la questione non è tanto dire sì o no, ma la questione è interrogare da quale posizione lui diceva sì o no e vedere se effettivamente quella posizione può essere spostata. Qual era quella posizione? In fondo di colui che si assumevano sempre le colpe all'interno della famiglia e spostandosi da lì che il, diciamo, sognatore, il soggetto dell'inconscio prende un'altra posizione. Dunque il lavoro onirico è un lavoro che mentre racconta una fiaba, una narrazione, un racconto, un senso, una rappresentazione, una messa in scena teatrale, agisce in modo tale da creare degli spostamenti e l'interpretazione accompagna questi spostamenti. Motivo per cui una buona interpretazione spesso non è qualcosa di cui il soggetto può rendere conto a livello del senso. Ho trovato la chiave di lettura del mio sogno, ma qualcosa di cui rende conto per il fatto che alla fine di questa interpretazione lui non è più quello che era prima, cioè non tiene più la posizione da cui inconsciamente continuava a produrre i sogni che andava facendo. Allora qui dobbiamo leggere il testo di Freud e il sognatore e dobbiamo fare questo anche al di là di quello che Freud è riuscito a dire di questo sogno e cioè l'interpretazione che Freud dà di questo sogno dice fino a un certo punto e come sottolinea Derrida rileggendo anche lui il sogno famoso di Irma c'è una resistenza di Freud al contenuto di questo sogno che si vede benissimo, non so se l'avete notato leggendolo, quando ad esempio Freud afferma di questo non mi voglio occupare o mi sembra sia sufficiente fermarci a quello che ho detto, il resto lo lasciamo nell'opacità che rimane. Dunque c'è una resistenza di Freud all'inconscio che è strutturale e che è precisamente il punto in cui il sogno non è più una narrazione ma un fatto reale, cioè tocca qualcosa della dimensione più intima e diciamo così anche non interpretabile del soggetto inconscio. Allora dobbiamo tenere questi due binari, che cosa dice e potremmo dire chi parla? Chi parla nel sogno? Lacan che commenta questo sogno abbastanza presto nel suo seminario secondo si pone precisamente questa domanda e dice la struttura del sogno mostra a sufficienza che l'inconscio non è l'io, l'io del sognatore, che non è Freud in quanto il Freud che prosegue la sua conversazione con Irma il sognatore, inconscio, è un Freud che ha attraversato il suo momento più grande di angoscia in cui il suo io si identificava al tutto nella sua forma più incostituita, è letteralmente sgattaiolato via, cioè il sognatore, l'inconscio nel sogno è precisamente quello che si dà sempre alla fuga, che scappa via, che sguiscia via, è sgattaiolato via, ha fatto appello come egli stesso scrive al consesso di tutti coloro che sanno, perché invita tutta questa serie di medici che entrano sulla scena in parte per assumersi loro la colpa di una guarigione parziale e in parte per evocare che c'è un incurabile che è in gioco nell'esperienza dell'analisi. È svanito, riassorbito, abolito dietro di loro. E infine un'altra voce prende la parola, ci si può divertire sull'alfa e l'omega della cosa, ma sarebbe la stessa frottola anche se avessimo n al posto di azeta, qui fa riferimento alla formula chimica che Freud a un certo punto sogna. Potremmo chiamare Nemo, questo soggetto fuori del soggetto, che designa tutta la struttura del sogno. Sogno che ci insegna dunque ciò che è in gioco nella funzione del sogno, che è al di là dell'io. L'inconscio è ciò che nel soggetto è del soggetto e non è del soggetto. Questo è lo specifico della scoperta freudiana, e cioè nel sogno non c'è un'estensione della coscienza, non c'è un io che diventa più capace di comprendere se stesso, di avere coscienza di sé perché ha più materiali per dare senso a ciò che lo riguarda in quel che vi è di più intimo nella sua esistenza. Ma c'è frattura, interruzione. Nel sogno noi scopriamo di essere infinitamente altri da noi stessi, e cioè che in noi parla una lingua straniera, ecco perché attaccava così Derrida commentando il sogno di Benjamin. L'inconscio che ha scoperto Freud non è un io nascosto, quello è il preconscio, non è un io profondo, è propriamente la constatazione che il sognatore è Nemo, cioè non il pesciolino ovviamente, e cioè nessuno, che questo sognatore propriamente non è riconducibile ad alcuna forma dell'io, ed è propriamente quello che è nel soggetto senza essere del soggetto. E dunque è l'alterità più radicale che ci abita in quel che abbiamo di più intimo. Allora, Freud lo svela subito. È il motivo per cui la sua interpretazione del sogno è fallimentare ma perfettamente riuscita. È fallimentare perché quando si avvicina al punto dice di questo non voglio sapere, non voglio dire, ma è soltanto così, attraverso un fichu, attraverso il pudore di un velo, che è perfettamente riuscita. E com'è che svela e rivela questo fin dall'inizio? Come attacca il sogno? Un grande salone, molti ospiti che stiamo ricevendo. Non che sto ricevendo, che stiamo. E come sottolinea Lacan, qui si vede immediatamente che la posta in gioco è l'inconscio di Freud nel suo legame. Con chi? Chi è che sta ricevendo? Sua moglie. È la prima donna che compare. Noi pensiamo che sia il sogno di Irma. E dunque se uno ci dovesse chiedere, ma oggi abbiamo letto il sogno di Freud, uno dei più importanti, con cui lui spiega l'interpretazione dei sogni, e di che parla? Ma di una sua paziente, Irma, falso. Parla di sua moglie parlando di Irma. È così che funziona l'inconscio. Ma c'è il pudore, c'è la resistenza, c'è il velo, c'è questo fischù, e stiamo ricevendo. Il soggetto in fondo da cui il sogno si genera è in fondo la coppia. La coppia, in fondo potremmo dire, è Freud e la sua donna. Ma lì si apre tutta la questione, che ovviamente riguarda la nascita della psicoanalisi. Com'è nata la psicoanalisi? Perché un uomo di nome Freud ha deciso di ascoltare a un certo punto quello che avevano da dire alcune donne. E si è posto questa domanda. Was will das we? Che cos'è che vuole? Che cos'è che vuole la donna nel suo dire? E qui nel sogno di Irma si vede dipanata tutta la questione. Per come è possibile dirla? E cioè, in fondo, tacendola. Allora, primo punto, abbiamo individuato in fondo che, come si legge un sogno, contraddicendolo. Si legge sempre in filigrana, si legge sempre a partire, dice Freud, dal punto di opacità. Dove voi non capite un accidente è lì che dovete porvi per poter leggere il vostro sogno. E precisamente è lì che vi invita a stare l'analista, il quale, come abbiamo visto bene ieri, non è a darvi l'interpretazione, ma a far sì che voi, in quanto soggetto analizzante, possiate cominciare a interpretare il vostro stesso sogno a partire dal punto etico di opacità che lo genera, che lo determina. Nemo, Nemo è il sognatore, nessuno né soggetto è al di là del soggetto. Allora, poi inizia con l'ingresso di Irma e Irma ha messo Freud alle strette e cioè come compare qui in fondo questa figura femminile? È una figura del rifiuto, è una donna che era in cura da Freud, a cui a un certo punto pare, nel sogno e nel ricordo, che Freud abbia detto ciò che da questo sogno in poi nessun analista si è mai più autorizzato a dire a un paziente o una paziente. se hai ancora dolori è veramente soltanto colpa tua, io ti avevo offerto la soluzione. E cioè, che posizione è questa? Che posizione di enunciazione è quella che qui tiene Freud nel momento in cui si autorizza a dire a Irma le due cose. Ti avevo offerto la soluzione ed è colpa tua che non l'hai accettata, cioè che l'hai rifiutata, per cui sei ancora malata. Beh, primo, che si tratta in una cura di offrire la soluzione. E cioè questa è precisamente la simmetria del medico col paziente, cioè si vede chiaramente che qui Freud non ha ancora, ed è questo sogno che in fondo gli insegna, che nell'analisi si tratta di tenere un'altra posizione. L'analista non è il medico che ha la soluzione. In tedesco soluzione è l'osung, che anche in italiano si usa, la soluzione chimica che si può iniettare in un soggetto per guarirlo. Ed è precisamente il sogno di una iniezione, quello che qui viene formulato, come se Freud avesse iniettato nella paziente la soluzione alla sua malattia. Dunque, primo elemento è l'idea che il curante, il terapeuta, l'analista sia lì a offrire ciò che potrebbe risolvere completamente il problema. Che cosa ha scoperto invece Freud? Che cosa scopre Freud attraverso l'inconscio, l'esperienza dell'analisi, la scena onirica? Che il problema è già la soluzione. Che ciò che fa soffrire il soggetto a livello dell'inconscio è precisamente la soluzione che il soggetto inconsciamente ha costruito per trattare la sua questione. E cioè, come abbiamo già detto a più riprese, che il sintomo analitico non è un sintomo medico, non è qualcosa che deve essere curato, guarito? Perché il sintomo analitico è una domanda cifrata. Il sintomo analitico è qualcosa che al contempo permette al soggetto di cavarsela, infatti se noi puntiamo all'eliminazione del sintomo otteniamo quasi sempre un peggioramento delle condizioni generali del soggetto stesso. Dunque il sintomo ha una funzione terapeutica ma ancora di più il sintomo parla. Nel sintomo c'è un messaggio, un messaggio cifrato rivolto all'altro che il soggetto non può arrivare a tradurre in parole. Ora tutta la questione è spostarsi dalla posizione autorevole del medico che offre la soluzione a incarnare precisamente quell'altro a cui il messaggio cifrato che c'è nel sintomo è rivolto. Bisogna diventare l'interlocutore dell'inconscio, bisogna andare a occupare precisamente la posizione che il sintomo ha costruito come proprio interlocutore e questo fa sì che l'inconscio possa cominciare a parlare e a generare le sue verità. Allora in fondo qui Freud ci sta dicendo che ha tenuto la posizione sbagliata e si rimprovera di questo, si rimprovera attraverso un meccanismo che è semplicissimo, scaricare sul soggetto il rimprovero che sta facendo a se stesso. È colpa tua se la cura non è stata efficace fino in fondo, non hai accettato la mia soluzione e dunque continui ad avere i sintomi. Ma vediamo questi sintomi, i sintomi che Freud sogna in questa rappresentazione unirica. Sapessi che dolori ho ora alla gola, allo stomaco, al ventre, mi sento tutta stretta. Allora, immediatamente nel sogno c'è il movimento che fa Freud per discolparsi. Lo stomaco, il ventre, la gola tutta stretta, forse c'è qualcosa di organico, forse il soggetto è malato fisicamente e cioè il contrario di quello che diciamo fa per Freud la diagnosi di isteria. C'è un sintomo organico ma non c'è una causa organica. E nel sogno c'è invece questo escamotage perché se la causa è organica allora io non ho nessuna colpa. Io analista che ci posso fare se lo stomaco, il ventre, la gola di Irma si sono infiammate, infettate, non funzionano come dovrebbero funzionare. C'è una causa organica, non una causa psichica, rispetto a cui non posso fare nulla e dunque non sono responsabile. Allora qui vedete che si pone una questione enorme che era stata evocata anche da Fabio Galimberti lunedì, la differenza tra la colpa e la responsabilità. E cioè in questo primo movimento del sogno Freud, Irma e gli altri dottori si girano la patata bollente della colpa. Di chi è la colpa? È colpa tua Irma perché non accetti la mia soluzione. È colpa di Otto che ha utilizzato una siringa infetta. È colpa dell'altro medico che non sa interpretare quelle che sono le cause della tua malattia. Sarà mica colpa mia che non ho affrontato con la dovuta cautela o come dice a un certo punto Freud, ho promesso troppo alla mia paziente. E cioè ho promesso una guarigione di cui non ero in realtà in grado di garantire la soluzione di nuovo. Mentre dall'altra parte c'è la questione della responsabilità. Ora, la colpa non guarisce nessuno. La colpa non fa che iterare il tentativo di costruire un alibi rispetto all'inconscio. È colpa mia, è colpa tua, non cambia molto. In entrambi i casi quello che si realizza è una difesa o una resistenza nei confronti invece della responsabilità. La responsabilità è dalla parte dell'inconscio e cioè dalla parte dell'assunzione che in quello che si manifesta a livello sintomatico nella mia vita ne va di me stesso, che nelle mie forme patologiche del sintomo c'è la mia verità più intima e che dunque tutto ciò mi riguarda in prima persona. Mi riguarda non nel senso che io ne sono padrone e dunque ne sarei anche colpevole, ma nel senso che è proprio lì, dato che non ne sono padrone, che ne sono responsabile. Che è proprio in quei sintomi, in quelle manifestazioni che io sono chiamato a ritrovarmi perché apparentemente è ciò che vi è di più estraneo la mia vita e cioè di nuovo è lì che io incontro lo straniero che mi abita in ciò che ho di più intimo. Questo sogno, sapete, è dentro il testo inaugurale della teoria di Freud sui sogni appunto che è l'interpretazione dei sogni. Esistono delle aggiunte successive all'interpretazione dei sogni, sono tre testi brevi che Freud scrive proprio per chiarire alcuni punti importanti e che effettivamente toccano la questione dell'interpretazione. Sono delle aggiunte che scrive molto più tardi nel 1925, sono tre piccoli articoli che caricherò anche su Moodle. Il primo è intitolato i limiti dell'interpretazione, il secondo è intitolato la responsabilità nei confronti dei propri sogni e il terzo tocca un tema piuttosto delicato e riguarda i sogni che evocano la dimensione occulta. Allora, il primo. Nel primo, in fondo, in parte l'avevamo già toccata questa questione, Freud ci dice che nell'interpretazione dei sogni c'è sempre un limite che noi dobbiamo tenere in considerazione. E qui torna di nuovo la questione del fichu. Bisogna non solo essere prudenti, ma anche avere un certo pudore nei confronti della verità. L'interpretazione, diciamo così, deve essere mantenuta all'interno di certi limiti. Ed è quello che Freud stesso dà prova di fare in questo testo su Irma. Di questo non voglio parlare. Avete visto come minuzioso nell'analisi, no? Di questo non voglio sapere. Possiamo fermarci qui? Ecco, questa è una dimensione etica fondamentale. Non tutto è interpretabile. Non tutto deve essere portato al senso. Ma non solo perché non è possibile, ma perché, se avete seguito il nostro punto di partenza, ma anche altre considerazioni che abbiamo fatto in questi precedenti incontri, la parte più importante del sogno è propriamente ciò che è privo di senso. Ciò che non è interpretabile è, diciamo, il rumore di sottofondo, che sfugge sempre all'organizzazione e alla rappresentazione del senso. Dunque c'è un limite, che è un limite strutturale, è un limite anche etico nei confronti della rivelazione inconscia. Secondo punto, è a partire da quel limite che noi possiamo assumere la nostra responsabilità nei confronti dei sogni. Che significa questo? Se il sogno e l'interpretazione del sogno fosse semplicemente un esercizio ermeneutico andrebbe avanti all'infinito. Ogni elemento del sogno può essere interpretato in infiniti altri modi, scomposto, ricomposto, attraverso metonimia, metafora, attraverso spostamento, condensazione. L'interpretazione da sola non ha limite. Ma che cos'è che allora ci permette in fondo di interrompere l'interpretazione, di mettere un punto, di far sì che un'interpretazione non ne richiami subito un'altra, ma come vi dicevo all'inizio, che nel sogno e nell'interpretazione, per quanto bizzarri possono essere, qualcosa venga agganciato, qualcosa venga afferrato e in fondo il soggetto possa dire è questo, è questo ciò di cui si tratta, non altro. È il punto di responsabilità. La responsabilità non è a livello diciamo della semiosi infinita, del rilancio ermeneutico del contenuto, non c'è nessun elemento nel sogno che possa autorizzarci a mettere il punto. La responsabilità è a livello della posizione del sognatore e cioè in ogni sogno il punto in cui noi andiamo a rintracciare il sognatore è quello che Freud chiama l'ombelico del sogno, è il punto di opacità, è il punto non interpretabile ed è per questo che non si può interpretare un sogno se non con il sognatore, non esiste un'interpretazione fatta fuori dal dispositivo analitico, è nel dispositivo analitico che il sognatore rievocando la posizione appunto di Nemo che occupa del sogno può orientarne la lettura e mettere i punti, le virgole, gli accenti e farne una grammatica che permette al sogno di costruire qualcosa di definito e di puntuale. Dunque i limiti dell'interpretazione ci permettono di assumere responsabilmente la verità inconscia che è depositata nei nostri sogni. Ripeto, assumere la verità inconscia responsabilmente non significa comprenderla, non significa farla nostra, perché se inconscia rimane come tale straniera, estranea e dunque significa in fondo assumere questa estraneità come costitutiva, assumere diciamo questa irriducibilità dell'altro che è in noi come un elemento entico costitutivo della nostra esistenza. Ecco che cos'è il terzo punto, l'occulto. Nei sogni c'è sempre un elemento che Freud chiama occulto e cioè reale, un elemento indecifrabile, un elemento fuori senso, un elemento che fa saltare ogni orizzonte di rappresentazione. È di questo che noi siamo responsabili, siamo responsabili propriamente di quello che non possiamo completamente decifrare. E dove compare in questo sogno questo elemento occulto, questo elemento indecifrabile? C'è sulla sinistra, nella gola di Irma, compaiono delle strane placche e poco più in là c'è qualcosa di, Freud dice, una zona di ottusità. Cos'è l'ottusità? È praticamente ciò che resiste al trattamento che Freud riserva a questa interpretazione del sogno. C'è qualcosa di ottuso nell'inconscio che non vuole dire nulla, che non vuole essere tradotto in un senso o in un significato. Rileggiamo allora a questo punto i nostri sintomi. Gola, stomaco, ventre, mi sento tutta stretta. Allora, gola, stomaco, ventre, che cos'è che sappiamo e che Freud non ci dice? Che in quello stesso frangente, mentre si trovavano in campagna, si trovavano loro due, lui e la moglie, e Freud fa questo sogno, la moglie è incinta e ha dei dolori al ventre, allo stomaco e Freud sogna la gola, la gola di questa, ecco, giovane vedova, Irma, che si trova a mostrare la gola a Freud e Freud guarda dentro la gola di questa giovane vedova e in fondo che cosa dice Irma? Mi sento tutta stretta. C'è qualcosa che impedisce in fondo a Irma di parlare, cioè qualcosa che si è bloccato nella gola di Irma e che in fondo le impedisce di far emergere ciò che la riguarda e che cosa sarà mai? Che si è infiltrato nella gola di Irma e che satura la sua mancanza, il vuoto più intimo di se stessa, che si mette di traverso? Ancora Lacan commentando questo sogno dice, Freud in fondo ha scoperto l'inconscio attraverso una metafora fondamentale, c'è nel soggetto umano qualcosa che si blocca nella cavità orale, nella nostra bocca quando parliamo, qualcosa che si mette di traverso, qualcosa che ci impedisce di dire che cosa? Il nostro desiderio inconscio, c'è qualcosa che fa da ostacolo, che fa da inciampo, che resiste all'interno del nostro stesso desiderio di dire e nel rapporto con Irma questo è evidente perché si sente tutta costretta, c'è qualcuno che ha parlato troppo e questo qualcuno è Freud, che ha messo la sua soluzione, la sua parola nella gola di Irma, la infettata e da qui tutta la sua preoccupazione di aver usato una siringa non ben pulita e che significa una siringa non ben pulita? Una parola che parla al posto dell'altro, che infetta l'altro con la propria parola, una parola che in fondo non sopporta quella cavità orale spalancata perché ne ha orrore e allora non è la moglie, non è Irma, non è neanche l'amica di Irma, quella che nel sogno Freud vagheggia come una paziente migliore. Perché migliore? Perché è una donna meno resistente a che cosa? Alle sue infiltrazioni, alle sue interpretazioni, alle sue iniezioni. Una donna affascinante eppur non tanto docile, non è neanche la governante che compare nelle associazioni libere come quella donna che aveva aperto la bocca di fronte al medico ma non troppo un po' reticente per il pudore che aveva nel mostrare la dentiera. E dunque non è nessuna di queste donne che hanno a che fare col desiderio rimosso, cioè col desiderio inconscio di Freud. Lacan ci dice non è la prima, non è la seconda, non è la terza, è la morte. È precisamente il punto di giuntura tra la morte e la sessualità che Freud vede in quel punto d'angoscia che incontra nella gola, nella cavità orale, silente e otturata dalla sua parola di Irma. E cioè, se vogliamo andare fino in fondo come Freud non va per funzioni più didattiche nostre, che cos'è se non quello che molti anni più tardi Freud dirà appartamente come fallimento della psicoanalisi, il rifiuto della femminilità. Quando in analisi terminabile e interminabile dirà precisamente nonostante tutta la lunga elaborazione che l'analisi favorisce ai soggetti che interpretano i propri sintomi, che si mettono a combattere contro le forme di difesa, di resistenza, di rifiuto della castrazione, in ultima istanza, alla fine il maschio si trova di fronte al rifiuto della femminilità tanto quanto la donna e questo rifiuto noi lo chiamiamo il muro della castrazione. Cioè qualcosa dell'angoscia di Freud di fronte a questo punto non interpretabile, l'ombelico, l'ombelico, il punto d'innesto, dove nella gola di Irma Freud intravede che cosa? La rappresentazione, come lui stesso fa dire tramite Fliss dell'organo femminile, ma al contempo il luogo vuoto da cui tutti noi proveniamo e verso cui tutti noi è l'angoscia di morte, questo punto di giunzione diciamo tra la vita e la morte che nella sessualità appunto detiene il segreto di questo sogno. Allora è chiaro che qui ho detto fin troppo e Freud invece come si limita a dire tutto questo? Che nel sogno compare a un certo punto una formula, una formula che se avete notato quando c'è tutta questa questione della colpa che è la questione in fondo della fiaba onirica, di chi è la colpa, la colpa è mia, è quello che noi chiamiamo ormai la cagnanamente la costruzione immaginaria, è colpa tua, è colpa mia, è colpa dell'altro, gli alibi, ecco dietro tutta questa costruzione, le tre più una figure femminili. A un certo punto la questione è che cosa aveva questa siringa di così nocivo d'aver prodotto non solo la non guarigione ma d'aver infettato il corpo di Irma, la trimetilamina, la trimetilamina, la trimetilamina è diciamo la parola chiave di questo sogno. Voi direte beh c'è tutta la narrazione, c'è Freud che la interpreta, c'è Freud che ci racconta, tutto quello che è il retroscena, il senso, quello che lui può dire di questo sogno, ma in realtà la chiave è questa trimetilamina e cioè una sostanza chimica. Una sostanza chimica, attenzione, che Freud non sogna come le altre cose, cioè come un elemento che è inserito in una narrazione, ma tra parentesi che cosa c'è scritto? Beh possiamo anche leggere in sinistra, qui in alto a destra se si vede. Qualche tempo fa l'indisposizione, l'amico otto le ha fatto un'iniezione eccetera eccetera, trimetilamina compare così nel testo e poi tra parentesi ne vedo la formula davanti ai miei occhi stampata in grassetto. Commento, non si fanno queste iniezioni con tanta leggerezza, probabilmente anche la siringa non era pulita, qui c'è quella logica del paiolo bucato, che riprendevamo anche l'unodiscorso e che in effetti è molto simpatica perché è la logica del viz, è la logica del moto di spirito, della battuta con cui diciamo l'io del sognatore se la cava per poter continuare a sognare. E qual è però il trucco del paiolo bucato? Che non dobbiamo mai mettere sul piano di coerenza i tre elementi, ma quando voi sentite questa storia, l'uomo accusato dal suo vicino di avergli restituito un paiolo in cattivo stato, in primo luogo gliel'aveva riportato intatto, in secondo luogo il paiolo era già bucato al momento del prestito e in terzo luogo non aveva mai preso in prestito un paiolo dal vicino. Vi fermate al fatto che c'è una contraddizione? No, primo fa sorridere e cioè tocca qualcosa del corpo, Freud usa questa bellissima espressione parlando della risata, dice i bambini, cioè gli esseri umani, prima ridono, poi parlano e cioè il riso è una forma più elementare del nostro rapporto con il linguaggio. Noi ormai adulti ci siamo dimenticati che parlare produce una certa soddisfazione che non ha nulla a che fare con il narcisismo, ma è esattamente quello che un piccolo duomo sulla soglia tra l'infanzia e la moralismo. Bru-bru, dra-dra, cru-cru, non vuole dire niente, ma non sta semplicemente facendo esercizi per imparare a parlare, questo siamo noi che retrospettivamente leggiamo quell'esperienza come a Merleau-Ponty dice del piccolo disegnatore che fa degli scarabocchi e piano piano comincia a entrare nella rappresentazione, ma non ne frega un accidente della rappresentazione, siamo noi che siamo lì accanto e dire guarda hai fatto la zia, ma che zia? Lui si soddisfa lasciando tracce sul foglio, è così che esiste. Esattamente noi facciamo così con il linguaggio, per cui Lacan dirà parlare un'esperienza di, in francese si dice jouissance, cioè godi senso, cioè un godimento carnale del masticare parole al posto del nutrimento primitivo. Non ce lo siamo dimenticati completamente questa dimensione qui, ma c'è comunque presente, è presente comunque nella nostra esperienza del linguaggio, che in parte serve a dire, a rappresentare, a costruire il senso, ma in parte serve a soddisfarci, a produrre una soddisfazione, a cefala, senza testa. E così è per il paiolo. Il viz produce una soddisfazione, produce un motto di spirito, ci fa sorridere e se ne infischia altamente del principio di non contraddizione. Ora, il sogno funziona così. È chiaro che se noi cerchiamo di rendere perfettamente non contraddittorio il sogno, non è che lo interpretiamo, gli togliamo la sua capacità di toccare ciò di cui si tratta, che è precisamente il punto di non senso in cui noi siamo, in cui si innestano la vita e la morte nel corpo sessuato. Allora, come dire questo? Non si può dire, non si può rappresentare, si può soltanto cifrare. Ecco perché Freud qui non sogna una narrazione attorno a questo punto, che è il punto decisivo, ma vede una formula, cioè con estrema chiarezza dice vedo la formula davanti ai miei occhi stampata in grassetto. Trimetilamina è una formula chimica. Potremmo dire che è la formula del reale, è la formula con cui si scrive il reale del sogno se fosse possibile scriverlo, ma non è possibile. E che cosa c'è dietro questa trimetilamina? Freud ce lo dice, non so se l'avete notato, ma non lo esplicita chiaramente. Chi c'è dietro la trimetilamina? Il suo analista è in fondo. Quello che ha fatto di Fliss, colui che sapeva ascoltarlo. Perché la trimetilamina era una curiosità di Fliss. Era Fliss che faceva i suoi studi un po' strani, devo dire, tra il funzionamento della, appunto, delle narici, della sessualità, e che individua nella trimetilamina precisamente la sostanza chimica che è in gioco nella trasmissione sessuale. Lacan fa un po' di ricerche, in effetti questa trimetilamina sarebbe presente nello sperma maschile, ma insomma adesso... e il punto è che ci dà l'indizio Freud, non dice quasi niente, però dice la formula che dà la chiave di questo sogno è precisamente quello che io ho intuito, ma non vi posso dire che nello stesso sogno non si è tradotto in una narrazione, in una rappresentazione, ma si è cifrato attraverso una formula chimica che io non dico ma vedo. Questo è nella testimonianza originaria di Freud, ma si vede nelle testimonianze anche di molti colleghi analisti che alla fine riducono trent'anni di analisi a pochi elementi e delle strane formule, e sono precisamente dei significanti come i rebus e i geroglifici di cui parla Freud dei sogni, che non hanno il senso di rimandare ad altri significanti per costruire una fiabola, una narrazione, un racconto, una storia di sé, un'autobiografia, ma sono delle marchiature, sono delle impronte, sono delle tracce che restano nel corpo, sessuato, marchiato, per questo vivente e dunque esposto alla morte, e dunque chiamato a rigenerare la vita. E questa trimetilamina cifra precisamente l'ombelico di questo sogno, cioè quello che noi non possiamo interpretare, non possiamo leggere, e che però vediamo precisamente in questa formula chimica. Allora, qual è il senso di questo sogno? Dice in chiusura Lacan. Dice così, è qui che conduce il sogno. L'entrata in funzione del sistema simbolico, nel suo uso più radicale, assoluto, giunge ad abolire l'azione dell'individuo in modo così totale che elimina nel medesimo tempo il suo rapporto tragico col mondo. Quindi l'ingresso nel registro del simbolico a cui ci introduce questo sogno, in fondo mostrando che l'elemento chiave è propriamente un significante che non fa catena con gli altri, che stringe, che marchia la verità più assoluta del soggetto, è precisamente ciò che scioglie il rapporto tragico col mondo. E come si scioglie questo rapporto tragico col mondo in questo sogno. non è solo per se stesso che Freud trova il nemo del soggetto acefalo che rappresenta il suo inconscio, al contrario è lui che parla tramite la mediazione del sogno e che si rende conto di dirci senza averlo voluto, senza averlo subito riconosciuto e riconoscendolo unicamente nell'analisi del sogno, cioè mentre ci parla, qualcosa che contemporaneamente è lui e non è più lui. E qui traduce Lacan quello che avrebbe incontrato Freud in questo movimento di incontro con la sua, diciamo, posizione acefala, per cui nell'inconscio è lui ma anche non è più lui. Sono colui che vuole essere perdonato di aver osato cominciare a guarire questi malati, che finora non si voleva comprendere e che ci si vietava di guarire. Sono colui che vuole essere perdonato di questo, sono colui che vuole non esserne colpevole, perché vuole sempre dire essere colpevole, perché vuole sempre dire essere colpevole e trasgredire un limite fin lì imposto all'attività umana. Non voglio esserlo, al posto di me ci sono tutti gli altri. Non sono lì che il rappresentante di quel vasto, vago movimento che è la ricerca della verità, in cui io mi cancello. Non sono più nulla, la mia ambizione è stata più grande di me. La siringa era senza dubbio sporca, proprio nella misura in cui l'ho troppo desiderato, in cui ho partecipato a questa azione, in cui ho voluto essere io, il creatore, non sono io il creatore. Il creatore è qualcuno più grande di me, è il mio inconscio, è la parola che parla in me, al di là di me. Ecco, e qui si vede bene appunto come in fondo nel sogno Freud lasci la parola all'inconscio che parla in lui, al di là di lui, e cioè in fondo ci rivela che la sua scoperta, come dicevamo prima, non è tanto quella di un io al di là dell'io, un io profondo e misterioso che si tratterebbe di andare a disvelare al di là, diciamo, delle maschere con cui l'io si addobba, ma è propriamente la figura acefala di questo soggetto del simbolico che parla in noi, al di là di noi.